Solo un breve intervento perché sono in Sardegna e ho difficoltà a registrare. Questo è Warren Buffett ovviamente e questi sono tutti i titoli che aveva in portafoglio il 30 di giugno. Da allora hanno guadagnato un 3,24% in 61 giorni, fa un 19% base anno, ma non è battuto il Dow Jones però in un periodo molto breve perché normalmente fa meglio il Dow Jones. Ecco qua ci sono tutti i titoli con le differenti performance, con tutto quello che hanno fatto e se questo foglio di lavoro vi piace, lo volete, basta che me lo chiediate. Ecco, questo è l'indirizzo email, chiedetemi e vi mando io quel foglio di lavoro con tutti i titoli e con tutte le performance, con quello che hanno fatto. È un bel esercizio da fare, quello di studiarlo, con il portafoglio. Bene, buon lavoro. Bene, buon lavoro.